Voi portate il covid. Questa è la frase rivolta a due ragazzi filippini prima del pestaggio di gruppo. È successo a Pescara, nella centralissima piazza Primo Maggio, la notte tra sabato e domenica. L'aggressione è scaturita senza alcun motivo apparente. I due asiatici sarebbero stati avvicinati prima da due giovani, poi da un branco di otto persone. Inequivocabili insulti razzisti e l'insensata accusa di essere un torri del virus. Questo è il preambolo della furia contro gli asiatici. Pugni in faccia e sul corpo di uno dei due di origine filippina, che è stato costretto a recarsi al pronto soccorso con una serie di ematomi e il naso rotto. Un rigurgito razzista, proprio nei pressi della Prodo, la nave di cascella che simboleggia la vocazione marinaresca della città al viaggio e allo scambio culturale. Quella contro gli stranieri è l'ultima di una serie di vili aggressioni discriminatorie accadute nel capoluogo adriatico. Nello stesso luogo, infatti, la notte tra giovedì e venerdì, altri due ragazzi aggrediti da sette giovani. Una delle vittime si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Cosa hanno fatto i due per meritarsi tanta violenza? Si stavano tenendo per mano. Nel 2017 due esponenti dell'estrema destra erano finiti davanti al giudice per una rissa in via delle caserme al grido di io sono razzista. Lo stesso anno un ragazzo è stato minacciato e inseguito sul lungomare da due uomini a bordo di un'auto perché visto dare un bacio al fidanzato. Lo scorso anno due giovani brasiliani mandati all'ospedale perché avevano sato tenersi per mano. Una settimana fa due ragazze si sono abbracciate in un parco pubblico attirando così l'odio del custode che le avrebbe cacciate a suon di insulti. In merito all'ultima aggressione omofoba, proprio nel corso del primo Abruzzo Pride, nel consiglio comunale di ieri il consigliere di centrosinistra Giovanni Di Iacovo ha presentato un ordine del giorno affinché il comune di Pescara si costituisse parte civile contro gli omofobi. Il consiglio ha però respinto la proposta. Non ci sono violenze di serie A e di serie B, si sono giustificati alcuni che hanno votato contro. L'opposizione approfitta dell'aggressione per fare propaganda. Il sindaco Carlo Masci si è espresso duramente contro gli autori del vile pestaggio ma parla di casi isolati. Stando alla cronaca però caso isolato dopo caso isolato sembra che anche a Pescara si erpeggi una cultura razzista e macista difficile da estirpare. Unica nota positiva dell'accaduto è che alcuni passanti non sono rimasti indifferenti durante l'aggressione omofoba. Diverse persone sono intervenute ha raccontato il ragazzo in ospedale. Mi spiace se chi è intervenuto si sia preso dei pugni al posto mio.